Ciao a tutti, oggi vi mostrerò il mio primo progetto e si tratta di un misuratore in tempo reale della potenza elettrica che sta scorrendo nel nostro impianto. In parole povere andremo a misurare l'energia elettrica che transita tramite la rete elettrica di distribuzione, quindi dal contatore elettronico, quella che esce dal nostro impianto fotovoltaico e quella che entra nel nostro impianto domestico e sarebbe il nostro consumo. Questo per quale motivo? Semplicemente perché dal secondo, terzo, quarto conto energia, non vorrei dire necavolata, l'energia che noi andiamo a rimettere in rete, quindi quella prodotta dal fotovoltaico che andremo a vendere alla rete elettrica di distribuzione, viene pagata molto poco, per cui lo scopo attualmente dell'impianto fotovoltaico è proprio quello di ottimizzare i consumi. E tramite questo dispositivo qui andremo a visualizzare la potenza di produzione, sul display del CD andremo a visualizzare la potenza di produzione istantanea, quella che stiamo consumando, quella che stiamo prelevando dalla rete e eventualmente anche quella che stiamo rimettendo in rete e quindi vendendo. Il nostro dispositivo è composto così, questo è il circuito elettronico e vedete che ci sono tre ingressi, casa, rete e fotovoltaico, a cui andranno collegate le tre pinze amperometriche, il microprocessore che elaborerà tutti i dati, un trasformatore per l'alimentazione e la misura della tensione di rete e proprio il display che ci permetterà di visualizzare tutto quanto. quindi come dicevamo le tre pinze amperometriche andranno installate qui, questo è l'ingresso dalla rete di distribuzione quindi dal contatore elettronico per capirci, una pinza andrà installata qui che analizzerà il prelievo quindi quello che preleviamo dal contatore elettronico e quello che rimettiamo in rete, quello che uscirà dal nostro impianto fotovoltaico quindi quello che stiamo producendo e quello che stiamo consumando in casa, vediamo lo schema elettrico, com'è composto, allora il trasformatore è un trasformatore 230 10 volte e mezzo più o meno, valore efficace, a doppio secondario, semplicemente a doppio secondario perché l'ho rammediato così tra le vecchie cose che avevo in casa, altrimenti ne bastava uno a secondario singolo e non c'erano problemi, però l'alimentazione andava presa per il nostro microprocessore andava presa in un altro modo quindi anche con un alimentatore normale a 5 volts, nel primo secondario andiamo a raddrizzare la sinusoide creando un'onda pulsante, con questo condensatore qui andiamo a stabilizzare la livelleremo con integrato 7805 e in uscita avremo una tensione di 5 volts. Questa parte qui riguarda l'analisi della tensione di rete quindi abbasseremo la tensione da 230 a più o meno 10-11 volts. Ah e vi premetto che il nostro microprocessore analizzerà, cioè permette in ingresso solamente tensioni positive tra 0 e 5 volts per cui tramite noi avremo in ingresso una sinusoide di questo genere con valori picco picco più o meno di 18 volts. Per cui tramite questo partitore qui quindi tra 5 volts e massa andremo a creare un punto medio di 2,5 volts che sarà questo e tramite quest'altro partitore qui, quest'altro partitore resistivo qui andremo a spostare la nostra sinusoide completamente sul semiquadro positivo che avrà un valore tra 0 e 2,5 volts in base alla tensione di rete. Poi con i calcoli e con l'analisi della tensione vedremo tutto quanto come funziona insomma il resto. Quindi questi due partitori servono appunto per spostare sul semiquadro positivo e portare il nostro sinusoide in un valore compreso tra 0 e 5 volts. Dopodiché questa è la parte riguardante il sistema di misura della corrente. Tramite queste pinze amperometriche andremo a far passare all'interno il cavo quindi la fase alla quale dobbiamo misurare la corrente e detto in parole poveri in uscita avremo un segnale in corrente. Questo segnale in corrente tramite una resistenza posta all'interno della pinza amperometrica verrà trasformato in un segnale di tensione quindi una differenza di potenziale e andremo a misurarla con il nostro microprocessore. Anche qui tramite questo partitore di tensione resistivo andremo a creare un punto medio di 2,5 volts eccolo qui e appunto la nostra misura di corrente sarà sempre sul semiquadro positivo. La sinusoide generata da questo trasformatore amperometrico sarà tanto più alta di picco quanta più corrente passerà diciamo nella pinza. Dopodiché ho aggiunto proprio ieri sera un led a catodo comune rosso verde che mi si andrà a accendere di verde nel momento in cui starò solamente consumando energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e si accenderà invece di rosso nel momento in cui starò diciamo prelevando anche tensione dalla rete elettrica. Un pulsante per entrare nel menu e vedere altri parametri e diciamo che grossomodo questo è il circuito come è composto il circuito. Andiamo a vedere come funziona realmente. Allora il sistema come vedete è stato appena collegato. Vediamo la pinza amperometrica proveniente dalla rete elettrica dall'impianto fotovoltaico e quella che esce e alimenta il sistema domestico. Vediamo il dispositivo qui sotto in funzione con le tre pinze amperometriche collegate il secondario proveniente dal trasformatore che alimenta il dispositivo. Questo qui serve ad analizzare la tensione di rete. Vediamo in dettaglio il display. Allora da qui possiamo monitorare tutta la potenza istantanea quindi all'unità di tempo transitante del nostro sistema. In dettaglio possiamo vedere produzione, consumo, prelievo e emissione. Questo led verde sta a indicare che stiamo consumando tutta l'energia prodotta e infatti la stiamo anche rimettendo in rete una piccola parte, una grande parte anzi. Nel caso in cui il consumo superasse la produzione questo led diventerà di colore rosso. Tramite questo pulsante qui possiamo variare la schermata e andiamo a vedere in dettaglio tutti i parametri rilevati dalle pinze amperometriche. In particolare possiamo vedere potenza attiva, tensione di rete, corrente, potenza reattiva, sfasamento, potenza apparente e frequenza di rete. Questo su ogni pinza amperometrica. In dettaglio andiamo a vedere come vengono calcolati questi parametri. Praticamente questa qui è la sinusoide della tensione e questa è la corrente. Il regime puramente resistivo e con carico puramente resistivo la tensione è perfettamente in fase con la corrente per cui non avremo angoli di sfasamento e questo è il caso che riguarda la produzione in quanto l'inverter rifasa esattamente corrente e tensione. Mentre per qualsiasi carico induttivo o capacitivo la corrente verrà sfasata rispetto alla tensione e proprio per questo verrà generato un angolo di sfasamento tra tensione e corrente e questo viene calcolato dal software tramite il picco massimo tra tensione e il picco massimo della corrente e calcolandolo diciamo nel tempo andremo a generare il nostro angolo di sfasamento e quindi potremo calcolare con questo tutti i nostri parametri. Questo è importante semplicemente per il fatto che l'energia pagata dal gestore del servizio elettrico è questa qui quindi l'energia attiva mentre l'energia reattiva è quella che praticamente non viene sfruttata e quindi non viene pagata dal gestore del servizio elettrico. Adesso vi faccio vedere come nel momento in cui andremo a prelevare energia dalla rete invece di utilizzare quella prodotta cambierà lo stato del led e anche i parametri sulla rete. Ancendi il fono? Ancendi il fono? Aumentando il carico vedremo che sul consumo andremo a consumare più della produzione quindi il led diventerà di colore rosso. Questo sta a indicare appunto che stiamo prelevando l'energia dalla rete. Spegni per fuori. In questo modo ecco torniamo a consumare tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico e quindi stiamo ottimizzando i consumi in questo modo. Questo è il dispositivo appena montato e funzionante. Vediamo come il fotovoltaico è in piena produzione, il consumo è relativamente poco e tutto il resto viene rivenduto in rete. Il prossimo step del progetto consisterà nel ottimizzare le uscite digitali del microprocessore in modo da pilotare automaticamente i carichi in casa a seconda della disponibilità di energia elettrica per cui quando c'è energia a disposizione verrà utilizzata per esempio d'estate per rinfrescare casa con condizionatori e quant'altro per scaldare acqua, per attivare automaticamente elettrodomestici come lavastovigli, lavatrici eccetera. L'ultimo step sarà quello di proiettare tutti questi parametri in un database disponibili online insomma e che con smartphone o computer si potranno monitorare e anche controllare a distanza le varie cose.